Non so voi, ma io ho una sindrome da rientro dalle vacanze. E come l'affronto? Mi tuffo in un pomeriggio di shopping da Acqua e Sapone. Scopri l'efficacia e la forza delle vitamine con Equilibra. La crema viso-vitaminica, fattore difesa, è a 365, è a 6,90€. Mentre la crema viso-vitaminica anti-aging è a 9,49€. E prova anche la nuova linea per la bella. E solo da Acqua e Sapone, con ogni prodotto Equilibra Viso, in omaggio alla maschera viso idratante rosa Ialuronica. Per ciglia volumizzate con un look naturale, prova i mascara Formula Pura Deborah Milano. Le varianti Classico, Volume Forza e Acqua Wash sono 8,90€ ciascuna. E per un viso dal finish naturale e senza imperfezioni, prova il correttore fluido Formula Pura 7,90€. Solo da Acqua e Sapone li trovi tutti abbinati con il gel detergente viso in regalo. Qui mi sento a casa e trovo tutto a prezzi incredibili. E anche oggi ho trovato offerte straordinarie. Acqua e Sapone, oltre la convenienza!